Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento in diretta con l'informazione di TRG. Siamo su TG Mattino, prima pagina. In pochi minuti andremo a vedere quali sono le principali notizie dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Ovviamente fra le pagine campeggia la cronaca con l'uccisione di un perugino avvenuto in un carcere campano ad opera del compagno di Cella. Ma si parla anche del giovane che è deceduto dopo una cura chemioterapica senza dimenticare i furti avvenuti in Alto Tevere. Si parla anche di ANAS con il piano strade in previsione soprattutto delle ferie e ovviamente dei trasporti che tanti Umbri effettueranno e per finire non si può non parlare di politica in virtù anche delle elezioni regionali che fra poco ci saranno e ci saranno appunto descritti i vari movimenti non solo del centro-sinistra ma anche del centro-destra. Iniziamo dunque il nostro tour con la prima pagina del QN La Nazione dove appunto campeggia la notizia di cronaca sgozzato dal compagno di Cella. Viveva nel perugino con la madre, l'uomo ucciso nei carceri di Napoli sarebbe tornato libero nel 2026. Sempre con la cronaca morto dopo la chemio, la famiglia di Alex non ci arrenderemo. Respinta all'opposizione all'archiviazione del caso. Alla fianco c'è il caso di Laura Santi, passo avanti sul fine vita per quanto riguarda la sentenza sulla consulta. Ancora cronaca, nella foto alla centro della pagina la strage degli ulivi, le fiamme hanno divorato le colline sopra Poreta. Distrutti 150 ettari di verde. Situazione posta sotto controllo dopo ore e scattano anche due denunce. dai territori si parla di Perugia, condizionitori KO, uffici roventi, la corte d'appello corre ai ripari. A Spoleto spesi 100 mila euro, odissea giudiziaria, ho vinto la casa ma resto fuori casa. Medico di base a fine servizio senza cure, 900 assistiti a Montefalco. Ancora sempre per quanto riguarda le prime pagine, siamo sul messaggero ancora con la cronaca come detto, a città di Castello, picco di furti in casa, c'è la gang dell'estate. Ancora per quanto riguarda invece la politica, Perugia, la sindaca vede il santo padre, un vertice sul futuro della squadra. Anas arriva il piano anti-caos, stop estivo al 70% dei cantieri. Sulla fotonotizia ancora cronaca, blitz anti-bracconaggio, la mente del gruppo è un cacciatore perugino. Per quanto riguarda invece il Corriere dell'Umbria, si parla di politica con il centro-sinistra che prepara il D-Day. Proietti a un passo da sciogliere la riserva, PD e Movimento 5 Stelle già all'arrembaggio, subito in campo i leader. Ancora per quanto riguarda i richiami dai territori, siamo a Perugia, troppi condizionatori accesi, scattano i blackout, il caldo non allenta la morsa, disagio sulla rete elettrica, soprattutto nel Perugino, ma l'intervento di Enel è tempestivo. E andiamo dunque a dare un'occhiata da vicino alle pagine, soprattutto a respiro regionale, partendo dalla Nazione, sgozzato durante una lite, trentenne ucciso dal compagno di Cella. Enesima tragedia in carcere, stavolta a Napoli, la vittima era residente nel Perugino, dove viveva con la madre. Sarebbe tornato libro nel 2026. Ancora, sempre sulle pagine della Nazione, questa volta con la politica, consiglio. L'idea della sindaca, Margherita, scoccia presidente, ma poi tutti d'accordo su Ranfa. Ferdinandi la settimana scorsa suggerì la sua avversaria per la guida dell'Aula. Un segnale per ricucire, disse, e l'opposizione ora rilancia le nostre proposte. Intanto, sulla destra dei teleschermi, c'è Pasquinelli, candidato per il fronte del dissenso. Ecco la sterzata di Renzi, noi con il centro-sinistra. Il leader di Italia Viva rompe gli indugi e mette a tacere i ribelli. Evara, di fatto, il suo appoggio a Stefania Proietti, nel caso corra per la Regione. Ancora, sempre per quanto riguarda le pagine della Nazione, morto a 17 anni dopo l'echemio, il GIP respinge l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Sono indagati otto medici dell'ospedale, la famiglia di Alex Mazzoni. Non sono stati chiariti tutti i dubbi. Noi non ci fermeremo fino a quando non avremo la verità su quello che è accaduto a nostro figlio. E ancora, per quanto riguarda invece il caso della giornalista Laura Santi, che dice sentenza importante, ma mi soddisfa a metà, da anni la giornalista è affetta da sclerosi multipla e commenta così la decisione della Corte Costituzionale che allarga le maglie per il suicidio assistito. Siamo ora sulle pagine del messaggero. Come detto, parliamo di ANAS, piano anti-caos per quanto riguarda le strade, rimosso alcuni cantieri per facilitare l'esodo. In Umbria sono circa 20 lavori che comunque andranno avanti per migliorare la rete. Più auto in circolazione l'ultimo weekend di luglio e i primi di agosto. Ancora, sempre per quanto riguarda il messaggero, politica in nodo da sciogliere, Ferdinandi, santo padre, primo vertice sul futuro. La sindaca ha incontrato il proprietario del Perugia, il club patrimonio della città, ha detto. L'aggiunta al lavoro sul dossier Curi, ieri sopra il luogo dei tecnici del Comune, in gradinata. E ancora, sempre per quanto riguarda la politica, questa volta con due pagine del Corriere dell'Umbria, come vedete, il centro-sinistra è convinto della riconquista dell'Umbria, il centro-destra affila le armi. In vista delle elezioni regionali si delineano le strategie con la certezza che il gioco non c'è solo l'Umbria. Il risultato potrebbe avere effetti anche sul piano nazionale. Questa mattina a Perugia c'è Elie Schlein. E qui i cinque al momento candidati per la poltrona del Presidente della Regione, partendo da sinistra verso destra, troviamo Donatella Tesei, che è la Presidente uscente, Stefano Proietti in attesa della riconferma, poi c'è Stefano Bandecchi per quanto riguarda Alternativa Popolare, Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare e per finire Moreno Pasquinelli con il fronte del dissenso. De Luca contro Bandecchi, siamo fieri di essere un problema per lui, ha detto, mentre taglia i comuni 35 sindaci contro gli altri e una bufala. I primi cittadini criticano i loro colleghi che hanno scritto due ministri. Sui tagli dei governi a loro amici non hanno però detto nulla. Adesso andiamo a vedere da vicino invece le pagine a respiro locale, riprendendo con La Nazione per quanto riguarda Assisi che dice addio a Gino Bulla. Se ne va un protagonista della vita culturale della città, fotografo, giornalista, direttore delle riviste Rocca e Subasio dell'Accademia Properziana. I funerali si svolgeranno questa mattina nella chiesa della cittadella. Sulla destra si parla di Todi che celebra i vini doc del territorio con un evento e a Bastia Umbra c'è il confronto su plastica, inquinamento e riciclo. La conferenza della professoressa Assunta Marrocchi per i lunedì della scienza dedicati alla salvaguardia dell'ecosistema, della sostenibilità e anche del risparmio energetico. Andiamo avanti, siamo a Gubbio dove il PD volta pagina. Il segretario si dimette, il partito affidato a cinque reggenti. Massimiliano Grilli annuncia la volontà di fare un passo indietro. L'assemblea elegge Manca, Uccellani, Casoli, Aloia e Fabretti. E proprio su questo, nella seconda parte delle nostre OTG Mattina, avremo anche un servizio che riepiloga in maniera dettagliata quello che è accaduto. Continuando, sempre per quanto riguarda la pagina di Gubbio, siamo a un evento per omaggiare e ricordare Giovanni Pierotti. La squadra gas vince il torneo promosso dal basket Gubbio. Intanto a Gualdo Tadino martedì ci sarà il primo consiglio comunale operativo. Ecco tutti i punti all'ordine del giorno. In fotografia, Flavia Guidobaldi, che è la presidente della massima assise consigliare. Mentre a Fossato di Vico si festeggiano gli 80 anni delle acri. A Città di Castello, la carica dei 100 super studenti. Il comune premia i top della maturità. La cerimonia in Pinacoteca. Ecco i nomi dei ragazzi che frequentano le scuole dell'Alto Tevere. Sulla destra si torna a parlare della festa della battitura, mentre nella parte bassa c'è Tiferno Comics. Ecco il manifesto di Vanna Vinci. Omaggio alle bellezze Tifernati. La mostra inaugura il 20 settembre a Palazzo Facchinetti. E siamo a Foligno. Parco eolico, impatto irreversibile. Si allarga il fronte della protesta. L'associazione Pro Foligno dice progetto incompatibile con ogni politica abitativa e antispopolamento. Ci sono poi a Palazzo Trinci i musei a confronto con la sottine linea d'Umbra. Mentre a Moltefalco restano senza medico di base 900 pazienti. Il comune si mette paura e scrive alla USL. Terni di ossina più alta durante l'incendio. La relazione di Arpa sul rogo di Maratta. Presenza significativa. Le concentrazioni dell'inquinante scendono drasticamente nelle ore successive. L'incendio che ricordiamo è avvenuto il 12 luglio scorso in una ditta di rifiuti ingombranti proprio di Maratta. C'è poi l'avviso pubblico dei laurei per quanto riguarda l'inceneritore Umbro. Mentre si torna a parlare del consultorio, ginecologo al consultorio, la USL rassicura dopo la protesta. L'azienda sanitaria infatti garantisce la presenza dello specialista a partire dalla prossima settimana. Ci spostiamo sulle pagine del messaggero riprendendo con quella dedicata al capoluogo di regione, vale a dire a Perugia. Cresce l'art bonus e continua a salvare i beni storici in città. Sbloccati altri lavori e la lista si allarga, c'è anche il timidero storico di Morleschio. Restaurati il gonfalone del comune e un manoscritto del 500 dell'Augusta. Intanto l'ascensore del P100 resta chiuso nel weekend, mentre per quanto riguarda il caldo, allarme, la corte d'appello, l'aria condizionata va in tilt, lavorare è impossibile. Nei bagni dell'edificio sono state raggiunte temperature che superano anche i 36 gradi. E ancora, per quanto riguarda i territori, siamo in Alta Valle del Tevere, nello specifico a Città di Castello, perché c'è l'allarme con una raffica di furti nelle case. Una banda colpisce le abitazioni vuote anche solo per brevi periodi di tempo. La mappa dei raid si parla di Tresti, Namorra, Promano, Cinquemiglia e Badia, Petroia. Ma anche su questa notizia, poi nella seconda parte del nostro Tg Mattina avremo proprio un servizio da Città di Castello, dove si riepiloga anche il modus operandi di questa banda di ladri. Torniamo nei quotidiani con Magione, dove Amazon apre le porte decisi a crescere. Per Teseo, un'opportunità per il territorio. Ieor deve tornare in Ucraina, i suoi gatti cercano una casa. Siamo ad Assisi, mentre occupa la casa cantoniera, condannata ad otto mesi di carcere. Per quanto è avvenuto, ancora siamo a Foligno e ancora emergenza caldo, piano per salvare i fragili. Lauser in prima fila per il sostegno, portiamo gli anziani in luoghi freschi, hanno detto. Aiutiamo le persone contro la piaga della solitudine con il contatto umano. Intanto l'iniziativa Palazzo Trinci, Musei ON, oggi il primo appuntamento con la performance artistica simultanea. E da Foligno passiamo a Spoleto, con il maxi incendio di Poretta causato dalla mietitrebbia e scattano due denunce. Il macchinario operava infatti in un campo, indagini affidate ai carabinieri forestali. Sopra il luogo del prefetto, tenuta sotto controllo, l'area interessata è stato spiegato. Svuota cantine, crea una discarica abusiva, scattano denunci e una multa da oltre 2.000 euro, sempre per quanto riguarda Spoleto. E chiudiamo con Confindustria, confermato a Presidente e l'imprenditore Alberto Maria Zuccari. Passiamo a Terni, case senza ascensore, allarme per gli anziani. Sono molte le abitazioni popolari che non sono dotate di questo servizio. L'auser riceviamo continuamente telefonate di aiuto o per compagnia. Intanto sta meglio il bimbo caduto in piscina, mentre si parla del tutor in Valnerina con i sindaci che dicono si rischia lo spopolamento. La polstrada salva anche un camionista che va a punto fuoristrada, probabilmente per un colpo di sonno, come scrive il quotidiano romano. Siamo alla Corriere dell'Umbria, dove ripartiamo con la pagina dedicata a Perugia e con i problemi del caldo. Troppi condizionatori accesi, scatta il blackout. Tante le utenze rimaste senza corrente. Enel, interveniamo spostando i carichi, dichiarata l'allerta di livello 3 in città. Come detto anche la Corte d'Appello, gli uffici senza persiane né climatizzatori, scatta la procedura di emergenza al terzo piano del palazzo. E ancora ascensore inclinato chiuso, servizi sostitutivi oggi e domani per quanto riguarda il pincetto. Alla Trasimeno, con i jazz che invade anche Amazon, un'esibizione al deposito di smistamento è stata l'occasione per presentare alcuni dati, creati più di 150 posti di lavoro. A Passignano sul Trasimeno il rione Olivetto torna in gara dietro fronte dei biancoverdi che parteciperanno al palio delle barche, mentre la città della Pieve al parco della rimembranza tocca al tempo delle cicale. Nuovi locali per l'ente Etab nel cuore del centro storico di Todi acquistati al pianotera del palazzo dei priori sono state sede di antiche botteghe e anche di MPS. A Maresciano, alla Salvatorelli Moneta ci sono 102 diplomati, 16 con 107 con la Lode. Finiti gli esami all'istituto onnicomprensivo. A San Venanza prendono via gli appuntamenti con la giunta comunale itinerante. Mentre da Sisi, cordoglio per la morte di Gino Bulla è stato protagonista della vita culturale ed accademica, i funerali sono alle 10. Sempre restando nella città di San Francesco, James Senese conquista il pubblico di Cambio Festival, grande serata anche per la danza. La manifestazione si sposta fuori città ad agosto per gli altri concerti, mentre a Bastia Umbra una notizia di servizio perché per quanto riguarda il trasporto scolastico sono aperte le iscrizioni. Proseguendo siamo a Città di Castello, premiati i 100 studenti più bravi. Si sono diplomati con il massimo dei voti, cerimona nel giardino della Pinacoteca per i riconoscimenti del Comune. E ancora proseguendo, stretta sull'utilizzo dell'acqua potabile, scatta l'ordinanza sino al 30 settembre stop per il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, per l'annaffiatura di orte e giardini ed il ricambio di acque nelle piscine. Ex amministratori onorevoli, figure di spicco e in minoranza. Siamo a Gubbio con una fotografia su chi siede in consiglio. Tra i banchi ci sono anche due coppie di fratelli. Gubbio futura, opposizione decisa ma disposti al dialogo. Intanto si è dimesso il segretario del PD, Grilli. Torna la camminata a Visina, a Gualdo Tadino, mentre l'anno c'era Umbra, parco comunale rimesso a nuovo, l'amministrazione invita i cittadini a frequentare l'area dopo gli interventi. A Foligno, la Pro Foligno scende in campo. Per quanto riguarda il parco eolico, l'associazione presenterà al Ministero le osservazioni al progetto con il supporto anche di esperti. Faccia a faccia con gli autori, ecco la panchina dei libri. È l'evento della nuova realtà territoriale Eteria. Tre gli appuntamenti in programma fino a settembre a Casale, Palleo e al lago Aiso di Bevagna. A Spoleto si torna a parlare del rogo di Poreta, due denunce per incendio colposo in fiamme più di cento ettari di bosco ed ulivetti secolari. Zuccheri, confermato alla presidenza di Confindustria, guiderà la sezione territoriale fino al 2026 e Beroide illustra le sue priorità, Sisti presto le nostre proposte. Incontro tra i cittadini della frazione e l'amministrazione comunale. A Terni, in gara per la capitale del libro, Terni avanza la sua candidatura al Ministero della Cultura e punta sul ruolo della BCT per centrare l'obiettivo. Bimbo salvato da un carabiniere e da due angeli in canotta, il militare libero dal servizio dato l'allarme e i bagnini hanno praticato le prime manovre rianimatorie sul piccolo che stava per annegare al Cico Mendes. Ad Orvieto assistiti 112 studenti in un anno per l'integrazione scolastica. I comuni sono arrivati a pagare poco meno di 600 mila euro. Ad Amelia ci sono nuove regole per i sentieri, mentre scendendo siamo a Narni, parere contrario alla realizzazione del biodigestore. La conferenza dei servizi della regione Fren sul progetto ed il comitato dei cittadini esultano. A Parrano è riuscita la manifestazione per i cessati il fuoco a Nghazza. Parliamo ora velocemente di cultura con Sabina Guzzanti, ironico nuovo monologo sul lavoro politica e tecnologia, mentre sempre dalle pagine del Corriere ad Orvieto Spazio Musica festeggia il trentesimo compleanno. I concerti saranno preceduti da 45 giorni di corsi intensivi di perfezionamento, mentre a Narni Sinfonia Flamenca stasera di scena al Teatro Manini. Velocemente anche lo sport con il calcio Serie C, Perugia, Cancellieri, va a Lavellino. Palson firma su Vulkic pure la Sampa. In terzino sinistro ceduto per circa 100 mila euro, l'islandese subito in campo. Nuovi sondaggi invece per il centrale. Biancorossi da oggi in ritiro, ecco i convocati di Formisano per quanto riguarda la partenza a Bagno di Romagna con 28 giocatori, tra i giovani c'è Patrignani che è stato riconfermato. Mentre sempre per quanto riguarda la Serie ci parliamo di Ternana, il mercato in entrata non decolla, caccia ad una mezzala per i dopo Luperini. In scadenza di contratto Donna Rumma e Martella continua il lavoro dei Rossoverdi di Ignazio Abate a San Lorenzo di San Gemini. Per quanto riguarda invece sempre il mercato, questa volta però siamo a Trestine con Bucci che va a Ravenna mentre in Città di Castello cala il Tris. Terni FC, una squadra pronta per l'assalto alla Serie D. E torniamo in Serie C con il Gubbio, ecco Venturi ed Ursi, Bumbu ceduto all'Altamura. Lunedì intanto c'è il Via, la campagna di abbonamento del Rosso Bucco, la novità della Fidelity Card. Mentre per quanto riguarda il volley di Serie A3 maschile, San Giustino campionato al Via il 20 ottobre, esordio contro la neopromossa Ancona. E con questa notizia noi ci fermiamo qui per la prima parte delle nostre 3G Mattina, ma restate con noi perché subito dopo ci saranno servizi e tante altre notizie. A fra poco.